Telezang. Ci troviamo davanti al cubo di Fucsas, che Telezang trova affascinantissimo come rappresentazione di tempio e portale per i cieli, ma a quanto pare questo cubo ha trovato solo polemiche, soprattutto da parte del parroco e dei fedeli che si sono lamentati negli anni del freddo insopportabile all'interno, le ha costretti a spendere anche 800 euro al mese di riscaldamento, ma la nostra idea è che sia il parroco o anche i fedeli ignorano che al vero credente deve bastare solo il fervore, la fiamma della fede per scaldarsi. Non sono della stessa idea. Telezang.